Sono state dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni rilasciate in aula da Sergio Casablanca, legale rappresentante di una cooperativa nell'ambito del processo sull'appalto del servizio di sosta a pagamento a riposto, che vede sul banco degli imputati l'ex sindaco Carmelo Spitaleri, l'ex comandante della Polizia Municipale Giuseppe Ucciardello, il consigliere comunale Michele Durso, l'allora legale rappresentante della cooperativa sociale Porto dell'Etna, Salvatore Tropea, il pluripregiudicato Mario Di Bella e la moglie di quest'ultimo, Emanuela Triolo, accusati a vario titolo di abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Così hanno deciso nel corso dell'ultima udienza i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Catania, accogliendo in pieno l'eccezione sollevata dal legale Ernesto Pino, difensore di fiducia di Salvatore Tropea. Il teste dell'accusa dovrà quindi essere risentito con tutti gli adempimenti di legge previsti dall'articolo 210 e quindi assistito da un avvocato. Secondo Ernesto Pino, tesi condivise dal Tribunale sarebbero infatti emersi elementi di irreità a carico del teste. Casablanca dunque salirà nuovamente sul banco dei testimoni nel corso della prossima udienza fissata per l'8 febbraio. Con lui saranno sentiti anche Fabio Patanè e Vito Grasso, legali rappresentanti di altre due cooperative a cui, secondo l'accusa, Salvatore Tropea avrebbe chiesto di presentare fittiziamente domanda per prendere parte alla gara d'appalto del servizio, salvo poi non presentarsi il giorno della gara.